Come vi ho detto qualche giorno fa in un video che ho registrato, sto approfittando di questo momento all'estero col bel tempo per riprendere in modo un pochino più strutturato i miei allenamenti e sto sperimentando dei nuovi integratori, in particolar modo con un nuovo integratore messo a punto dall'ottor Fabrizio Duranti. Vi voglio parlare delle nuove ciclodestrine. Io ho sempre avuto un po' di difficoltà con l'assunzione dei carboidrati, degli zuccheri durante gli allenamenti soprattutto ovviamente negli allenamenti di media lunga durata, qualche problema digestivo, talvolta qualche problema gastroenterico, ma soprattutto per esempio nel mio caso mi dava fastidio la sensazione di disidratazione che sentivo in bocca e poi anche sul resto del corpo, nei muscoli eccetera, soprattutto poi quando faceva caldo, quindi talvolta preferivo assumere meno zuccheri ma non dover sentire questa mancanza, questa secchezza nella bocca. Poi un pochino, anche se usavo zuccheri ad altissimo peso molecolare, mi si agglomeravano, diventavano tutto un blocco nella borraccia e quindi insomma quando dovevo assumerli magari all'annibice eccetera mi creava qualche disagio. Così in questi 15 giorni ho provato le nuove ciclodestrine del dottor Fabrizio Duranti e visto che per il momento questi problemi per quanto mi riguarda sono tutti risolti ve le voglio raccontare un pochino più nello specifico. Adesso vi parlerò come vi dicevo di queste nuove ciclodestrine dove si parla molto di purezza perché la purezza è il punto chiave su cui il dottor Duranti fa leva diciamo così nello sviluppo della sua linea di integratori, quindi parliamo di purezza al 100%. In questi 15 giorni di sperimentazione di queste nuove ciclodestrine pur di dextrin non solo ho risolto quelli che per me erano dei problemi, dei disagi ma posso addirittura usare un grammo di ciclodestrine per ogni minuto di attività aerobica se solo in zona 4-5 senza avere il problema che appunto si addensi l'integratore nella borraccia con le problematiche che tutti noi conosciamo. Oltre sempre sotto la guida, la supervisione del dottor Fabrizio Duranti, io per gli allenamenti nella mia borraccia oltre a queste ciclodestrine metto anche HP Amino Intra che è un fantastico contenitore per l'intra workout in modo tale insomma che le ciclodestrine veicolano e permettano ancora un maggior assorbimento di questo integratore intra workout. Mi faccio un pochino diciamo così portavoce del messaggio del dottor Fabrizio Duranti nel senso che quando studia per i suoi integratori per la linea WM fa una ricerca molto approfondita molto scrupolosa andando a cercare di scoprire quali sono le filiere migliori, più importanti per un prodotto finale che sia puro, che sia il più puro possibile, ma possiamo parlare proprio di purezza, per questo poi diciamo pur idrat dextrin. Gli studi che fa il dottor Fabrizio Duranti su tutti i lavori scientifici, noi diciamo anche che se qualcuno avesse delle oggettività da comunicarci che vanno in controcorrente rispetto a quello che comunichiamo, siamo ben felici di poterle leggere, di poterle consultare, di poter vedere delle evidenze scientifiche che raccontano qualcosa di diverso rispetto a quello che il dottor Duranti con un'attente e scrupolosa ricerca fa quando propone le sue linee guida di integrazione e la sua linea di integrazione. Abbiamo detto pur, abbiamo spiegato perché, quindi parliamo di purezza, purezza al 100%, seguita per tutta la filiera affinché si possa essere certi di questo. Secondo motivo è perché queste ciclodestrine contengono anche sostamine, che è un brevetto chiova, che permettono un'ottima, un'eccellente idratazione. Non meno importante ovviamente il fatto che queste ciclodestrine contengono il transresveratrolo e volva, che è un'eccellenza del mondo del resveratrolo. Insomma, questa era la parte, diciamo così, un pochino più tecnica di queste nuove ciclodestrine. Io vi volevo raccontare che cosa contengono e perché su di me hanno avuto questo effetto di potermi finalmente perfezionare e ottimizzare e sentire proprio la differenza, cioè si sente proprio la differenza. Anche in quel senso talvolta di vuoto, di svuotamento del muscolo che proviamo quando ci stiamo allenando, magari dopo un po' di tempo che ci stiamo allenando se siamo un pochino in super allenamento, ecco devo dire che in questi giorni questa sensazione non l'ho mai avuta, non l'ho mai provata. Quindi insomma, veramente credo un ottimo prodotto, un ottimo integratore. Soprattutto, come vi dicevo prima, massima garanzia. E questo insomma, nel mondo in cui ci muoviamo, non è proprio un aspetto di seconda classe.